Per fare la spesa l'89% dei consumatori pugliesi non usa l'auto e di fronte agli aumenti dei prezzi del carrello torna anche la lista della spesa in 4 famiglie su 10. Il servizio di Marilena Farinola. A causa del caro gasolio che costringe a tirare la cinghia, i consumatori pugliesi stanno cambiando le abitudini di acquisto facendo la spesa vicino casa o fa gli acquisti online o in negozi con consegna a domicilio e quanto emerge dall'analisi della Col di Rettipuglia. Con il rincaro dei prodotti si va anche a caccia delle promozioni, si guarda con più attenzioni ai prezzi e soprattutto si taglia il superfluo a tavola. Un impegno che al valore economico aggiunge anche quello etico e ambientale in un paese come l'Italia dove in media nella spazzatura finiscono quasi 31 chili all'anno di prodotti alimentari per un totale di quasi 2 miliardi di chili da smaltire. La propensione al risparmio in ogni caso non sembra intaccare l'attenzione verso la qualità di ciò che si porta a tavola aggiunge Col di Retti con la guerra in Ucraina e il Covid che hanno spinto oltre 8 consumatori su 10 a cercare di instaurare un rapporto stabile con un agricoltore per garantirsi cibo sicuro, sano e di qualità. Se i prezzi per le famiglie corrono, l'aumento dei costi colpisce duramente l'intera filiera agroalimentare a partire dalle campagne dove più di un'azienda agricola è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell'attività. Bisogna intervenire nell'immediato per contenere il caro energia ed i costi di produzione con interventi per salvare aziende e stalle e per riprogrammare il futuro.